Poi, hai mai fatto formazione utilizzando l'intero film? Sì, certamente sì, assolutamente sì, il discorso del re. Il discorso del re è stato in assoluto la, diciamo, la mia prima esperienza su public speaking, Spoleto, dicembre 2011, e tutto un corso fatto attraverso il film Il discorso del re, che rappresentava proprio dall'inizio alla fine proprio il filo rosso che legava tutti i temi del film, tutti i temi di cui mi sono occupato. Anzi, posso dire che i miei primi contenuti su public speaking nascevano dalle riflessioni a fronte di alcune scene. In particolare la scena iniziale, quella in cui lui prova a parlare e rimane praticamente a un attacco di panico, la scena delle tecniche, un paio di scene a corredo e a contorno, la scena finale, quando il re Giorgio VI, diciamo, fa il discorso con cui annuncia l'inizio della guerra con la Germania. Quindi, devo dire, sono stato recentemente a Londra, a parte la bella esperienza di tornare a Londra dopo tanti anni, sono andato a vedere il Churchill Memorial e il museo di guerra di Churchill e lì proprio tutto il discorso del re mi è ritornato tutto in mente. Quindi, sì, ho fatto formazione. Questo è un esempio. Un altro esempio, il negoziatore, Invictus, il corso sulla leadership, il volo della Fenice, il corso su project management. Fatemi pensare, una volta feci un aggiornamento per mediatori di otto ore e c'erano quattro scene con relative attività. La scena era l'introduzione per un'attività che potrebbero essere pezzi di video didattici piuttosto che altre scene. Quindi, la risposta era assolutamente sì. Insomma, per un intero film l'ho usato. Anche pezzettini.